Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio del Decimo Municipio, la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dalla lista calenda, che chiedeva di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori utili alla collettività. Siamo senza parole, si tratta di progetti già attivi in altri municipi, dove si sta dando dignità a questi cittadini che reclamano loro stessi di poter essere inseriti in processi formativi e sociali, come prevede la legge. Qui invece non se ne può neanche parlare, un triste paradosso che anche su questa tematica ci rende immobili, ha dichiarato in una nota il capogruppo della lista calenda Andrea Bozzi. Va sempre ricordato che il reddito di cittadinanza non è un regalo, ma è un diritto e come tale non deve essere compensato proprio da nulla, ha risposto il capogruppo di sinistra civica ecologista Marco Possanzini. Per questo serve un attento approfondimento nelle commissioni competenti, al fine di formulare progetti in grado di garantire percorsi di formazione certificata utili al reinserimento nel mondo del lavoro.